Buongiorno, iniziamo subito questa mattina, sono felicissima che ci sia Elena Basso a chiudere questa prima settimana di cartografie. Elena Basso è una bravissima giornalista freelance, scrive soprattutto di quello che accade in America Latina, ha recentemente vinto il premio Marco Lucchetta che è un premio molto prestigioso di giornalismo internazionale con un reportage che proprio si chiama L'Argentina ti cerca, poi ve ne parlerà, vi consiglio di cercare su Spotify, lo troverete, il suo podcast molto interessante che si chiama DNA, ve ne parlerà stamattina e racconta proprio la storia dei figli dei desaparecidos e poi vi consiglio di cercare di leggere una bellissima graphic novel che lei ha scritto e che Mabel Morrie ha disegnato e che si chiama Chile, è proprio la storia di come le dittature abbiano insanguinato il Chile ma l'America Latina, poi comunque anche di questo Elena parlerà. Come vedete podcast, reportage, graphic novel, la capacità attraverso le storie di creare connessioni fra le persone, quindi fare della propria capacità di ascolto e della propria capacità di avere studiato, di avere compreso la complessità di una situazione e poi tradurla in storie. Io ringrazio Elena Basso e ti passo subito la parola. Credo il microfono ce l'abbia anche tu. Funziona, sì. Perfetto. Grazie mille. Allora, come ha già detto anche Lorenza, io faccio la giornalista freelance dall'America Latina. In questo momento in America Latina non ci sono corrispondenti di giornali italiani, è da tantissimi anni che i giornali italiani non hanno più corrispondenti da quel continente. Questo vuol dire che si fa giornalismo magari da Roma parlando di Buenos Aires, magari da Milano parlando di quello che succede a Caracas e si mandano gli inviati che stanno tre giorni in una settimana solamente quando succede qualcosa di catastrofico, quando magari c'è un golpe, un tentativo di golpe come quest'anno in Brasile, quando c'è una catastrofe naturale o quando ci sono elezioni particolarmente importanti come quella che c'è stata quest'anno in Brasile fra Lula e Bolsonaro. Però il giornalismo che si fa in una settimana quando si manda un inviato, per quanto l'inviato possa essere magari eccezionale, è comunque una cosa molto limitata. Perché io credo che parlare dell'America Latina solo ed esclusivamente quando accadono queste cose sia anche una mancanza di rispetto verso il lettore che si trova completamente disorientato. Perché se io non ti parlo come giornale mai di quello che accade in Brasile, cioè io ti parlo di Lula che viene eletto e poi dopo semplicemente di un tentativo di golpe che avviene a Brasile fatto da un gruppo di sostenitori del ex presidente Bolsonaro, il lettore ha completamente perso. In realtà nei mesi precedenti al tentativo di golpe ci sono stati avvenimenti che facevano intendere chiaramente dove si andava. Cioè in Brasile era molto chiaro che si sarebbe arrivati perlomeno a un tentativo di golpe fatto da o i militari o dalla popolazione. Invece una persona che magari in Italia legge i più grandi quotidiani italiani o anche i settimanali si ritrovava di colpo dalle elezioni al tentativo di golpe. Come è possibile? Quindi io nel 2019 sono partita e sono andata in America Latina a fare la freelance. Collaboro con le testate più importanti a livello italiano da Repubblica all'Espresso al Venerdì, al Manifesto, a Radio 3, a Left e io riesco a mantenermi perché vinco premi europei soprattutto, perché se fosse per i giornali italiani o comunque anche internazionali, perché io collaboro con la BBC, Le Monde, The Guardian e altri giornali, mantenermi sarebbe praticamente impossibile. Quindi anche questo è giusto che lo sappiate. E scrivere di America Latina soprattutto come faccio io nel senso che a parte quando ci sono avvenimenti che bisogna seguire per forza tipo le elezioni, io poi mi occupo di violazioni ai diritti umani. Far passare in Italia riportaggio, inchieste sulle violazioni ai diritti umani in America Latina è una cosa estremamente difficile, soprattutto perché le inchieste che faccio io magari sono inchieste in cui io lavoro un anno o come nel caso di DNA, il podcast che è appena stato nominato, io ci ho lavorato dal 2019 ed è uscito l'anno scorso. Come si fa a portare avanti un lavoro del genere? Non ci si può più rivolgere ai giornali, perché a meno che tu non sia assunto, ma comunque anche se sei assunto dai giornali, poi devi fare 3.000 altre cose, invece se vuoi concentrarti su una storia del genere per tanti anni devi cercare dei premi sostanzialmente europei. Io per portare avanti quel progetto ho vinto un premio che si chiama Stars for Media, che è finanziato dalla Commissione Europea e che più o meno ha dato 50.000 euro per questo progetto. Quel progetto ad esempio è stato un'inchiesta classica, quindi poi pubblicata su The Guardian Le Monde Repubblica, però a me sembrava che non fosse abbastanza, perché comunque, come è stato accennato, erano storie abbastanza incredibili, anche ad altissimo impatto emotivo, perché la storia di cui poi vi parlerò meglio dopo è che in Argentina, durante la dittatura di Videla, quindi parliamo dal 76 in poi, sono state fatte sparire 30.000 persone, i desaparecidos, che venivano portati nei campi di tortura e sterminio, venivano torturati e poi venivano fatti sparire con i voli della morte, che vuol dire che venivano caricati su degli aerei drogati e poi venivano buttati giù ancora vivi e fatti sparire nelle acque di fronte alle coste argentine. Ma questo tipo di desaparecidos non sono gli unici che ci sono stati durante quella dittatura, perché i militari hanno anche deciso di far sparire i bambini dei loro prigionieri. Cioè, se magari veniva sequestrata una ragazza di 20 anni che era incinta di tre mesi o di sei, oppure veniva sequestrata una coppia e lì c'era la bambina di cinque mesi di un anno, i militari aspettavano nel caso in cui la madre fosse incinta fino a quando non partoriva, stuprandola, torturandola nel mentre, decidevano prima a quale comandante dare la bambina o il bambino, la facevano nascere, strappavano letteralmente il bambino dalle braccia della madre, uccidevano la madre e si portavano via il bambino a casa loro e lo facevano crescere come se fosse proprio. Il piano era chiaramente di far diventare quei bambini infetti, secondo loro, infetti dal germe rivoluzionario, dei cittadini modello per lo stato che i militari stavano creando in Argentina. Un piano diabolico, perché sostanzialmente si trattava di cancellare l'identità di quelle persone per farli diventare quello che volevano loro. Quindi questi bambini non avevano idea di non essere figli di chi li stava crescendo, non avevano letteralmente idea di essere stati cresciuti dagli assassini dei loro genitori. Quindi raccontare queste storie solamente per forma scritta non è semplice, nel senso che bisogna creare un'empatia con il lettore, bisogna far capire anche a chi ascolta ad esempio un podcast che quelle storie che a noi possono apparire pazzesche non sono così pazzesche, nel senso che sono persone come noi che poteva succedere a noi e quindi il formato del podcast in questo caso si presta tantissimo. Perché ad esempio posso raccontare tutta una serie di cose che in una inchiesta scritta, per quanto magari sia un'inchiesta di giornalismo narrativo, è difficile far passare. E soprattutto si possono anche far sentire le voci di queste persone. Quindi comunque l'impatto emotivo di chi ascolta queste storie è tutt'altro. Perché se io vi faccio ascoltare la voce di una prigioniera che chiama sua madre, comunque è tutto completamente diverso. no? E questa per me è stata la stessa cosa, lo stesso diciamo dilemma che ho avuto quando sono arrivata in Cile. In Cile nel 2019 è scoppiata una protesta, la protesta più grande da quando è caduta la dittatura di Pinochet. Sostanzialmente il Cile è un paese che è stato descritto negli ultimi anni, negli ultimi trent'anni, come l'oasi dell'America Latina. Per cui anche scrivere qualcosa di critico verso il Cile sui giornali non è affatto semplice. Perché poi c'è tutta una serie di accademici, di giornalisti che sostengono che il Cile sia veramente la Svizzera dell'America Latina. Perché? In Cile è stato a un certo punto eletto Salvador Allende, una figura che comunque per quanto si possa essere giovani più o meno tutti conosciamo. Allende era un socialista, era un presidente dichiaratamente marxista. Il primo eletto in un paese delle Americhe con queste idee. Il problema è che è stato eletto in piena guerra fredda. E poco dopo che c'è stata la rivoluzione cubana, c'è uno schiaffo comunque rispetto agli Stati Uniti in piena guerra fredda molto importante. Quindi in quegli anni gli Stati Uniti non potevano permettere che un altro paese delle Americhe avesse un presidente socialista. Quindi quello che è stato fatto, come ha detto anche lo stesso Henry Kissinger, è stato creare la possibilità che ci fosse un golpe di Stato. Cioè gli Stati Uniti non hanno, oggi sappiamo, fatto direttamente quel golpe. Lo hanno fatto i militari cileni, anche comunque sostenuti da gran parte della popolazione. Però gli Stati Uniti hanno creato la possibilità. Cioè hanno creato dei disordini nel paese tali che quando c'è stato il golpe, comunque moltissime persone, sì non so cosa sia questo rumore, moltissime persone comunque erano diciamo contente, tra virgolette, che i militari prendessero il potere. Solamente che quello che è accaduto l'11 settembre del 1973 è stato che i militari dal primo momento hanno fatto capire quanto sarebbe stato devastante quella dittatura. Quindi hanno fatto il golpe più violento della storia moderna, bombardando la moneda che è il palazzo presidenziale cileno, uccidendo tutti quelli che stavano dentro insieme al presidente Allende e poi il presidente Allende ha fatto un ultimo memorabile discorso ed è morto. Il problema, tra virgolette, è che noi come democrazie occidentali tendiamo sempre a ricordare le dittature dell'America Latina, in particolare quella cilena, solo ed esclusivamente in correlazione ai desaparecidos. Cioè tutte quelle persone che anche in Cile sono state uccise e fatte sparire, che è stato assolutamente un crimine aberrante. Io tra l'altro studio e indago sui desaparecidos cileni, uruguayani, argentini da tantissimi anni, quindi comunque è un tema che mi è particolarmente caro. Ma nella realtà dei fatti quelle dittature, partendo prima di tutto dal Cile, hanno fatto una cosa altrettanto violenta. Cioè hanno instaurato in paesi latinoamericani, quindi con una struttura culturale, sociale, completamente diversa da quella degli Stati Uniti, un modello socio-economico capitalista ed estremamente neoliberista importato dagli Stati Uniti d'America. E questo sistema, che soprattutto in Cile è stato particolarmente forte, perché è stato il primo paese in cui questa manovra è stata fatta, poi è stata copiata anche dagli altri paesi che hanno sofferto di una dittatura in Latinoamerica dagli anni 70 in poi, ma in Cile è stato il primo paese, quindi comunque si è calcato parecchio la mano, diciamo. Questo sistema fa sì che tutto sia privato. Quindi in Cile la sanità è privata, l'istruzione è privata, le pensioni sono private, persino l'acqua è privata. Cioè in Cile è l'unico paese al mondo che si è spinto tanto in là che persino l'acqua è un bene privato. Questo è quello che è accaduto durante la dittatura. Il problema è che poi il Cile arriva in democrazia, ma anche quando si arriva in democrazia e anche quando vengono eletti governi di sinistra, questa struttura non viene di fatto cambiata. Quindi il Cile per tantissimi anni ha continuato impassibile, diciamo, con questa struttura di fortissima privatizzazione che ha comportato, diciamo, sui dati, così solamente dati, una crescita economica, sì. Però questa lieve crescita economica che si può riscontrare appunto nei freddi numeri, poi se si va a vedere nella realtà dei fatti come questa crescita economica ha avuto dei risvolti sulla popolazione, di fatto questa crescita economica la maggior parte di popolazione non è arrivata. Nel senso che la struttura neoliverista che è stata imposta in Cile fa sì che solamente il 4% della popolazione goda di questa ricchezza e di questa crescita economica, mentre il resto della popolazione vive in uno stato di completa povertà. Cioè, figuratevi che vivere a Santiago del Cile non è diverso come coste rispetto a vivere a Milano o a Roma e, nonostante questo, lo stipendio medio cileno è sui 400 euro. Cioè, come si fa a vivere in una città come Roma o Milano con 400 euro? Non si può, chiaramente. Quindi, se ad esempio oggi si arriva in Cile, si va a fare una delle cose più belle a livello turistico che è salire sul Cerro San Cristobal, che è una montagna al centro di Santiago. Voi salite su questa montagna, da una parte vedete la città che tutti i giorni vedono i turisti che arrivano. Cioè, è molto bella, con i palazzoni, molto moderna, molto ordinata, i parchi, il verde, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, se ti giri, vedi un'altra città sterminata dove vivono quasi la totalità degli 8 milioni di persone che vivono a Santiago del Cile. Sono sostanzialmente solo baraccopoli ed è lì che vive la maggioranza dei cittadini. Però, per chi arriva magari dall'Italia, ci si limita a vedere tre o quattro quartieri che sono quelli più all'avanguardia, più moderni. Il Cile ha continuato così per tantissimi anni, fino a quando nel 2019 succede una cosa che fa scoppiare questa bolla. Una cosa molto stupida. Cioè, il governo di Pignera, che è un conservatore, l'ex presidente del paese, decide di far salire il prezzo del biglietto della metro del corrispettivo di 30 centesimi. Una cosa banale. Ma gli studenti, in Cile le associazioni studentesche sono fortissime, sono estremamente attive politicamente, fanno sempre manifestazioni, eccetera, eccetera, cominciano a fare una protesta pacifica in cui saltano i tornelli della metro nelle principali stazioni di Santiago del Cile. Solamente che quello che accade è che i carabineros reprimono questa manifestazione pacifica in un modo incredibile. i video diventano immediatamente virali. Quindi per questa cosa, diciamo, banale, che è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, succede il finimondo. Perché i cittadini cileni che vedono questi video in cui i ragazzini di 15 anni vengono malmenati da i carabineros cominciano a scendere in piazza. E si arriva circa una settimana dopo queste aggressioni con più di un milione di persone in piazza nell'ottobre del 2019 a Santiago e almeno un altro milione di persone in tutto il paese. Quello che stavano facendo non era protestare solamente contro quanto appena accaduto, ma stavano protestando contro il modello. Per cui quello che si vedeva in tutte le strade di Santiago era soprattutto un cartello che le citava non sono 30 pesos, sono 30 anni. Quindi loro stavano protestando contro questo sistema socio-economico che non era mai stato cambiato. Quindi le persone che sono scese in piazza volevano far scoppiare questa bolla. Stavano protestando contro questo sistema capitalista. Quello che è accaduto però è stata una guerra. Cioè sostanzialmente il presidente Piniera dal primo giorno durante una conferenza stampa con tutti i giornalisti stranieri tra l'altro ha dichiarato in vivo e in diretta che quello che stava accadendo era una guerra e che il Cile era in guerra contro un nemico potente. Il nemico potente era la popolazione cilena. Una popolazione in cui la maggior parte di persone erano ragazzini di 15 anni che scendevano con le sneaker e una t-shirt a fare una protesta. Però il presidente Piniera li ha definiti un nemico potente, quindi un nemico da combattere. In quel momento le forze cilene e soprattutto i carabineros, forze che non hanno mai subito una modifica dai tempi della dittatura, quindi comunque ai vertici ci sono le stesse persone che magari torturavano o che decidevano di far sparire nei centri grandestini migliaia di persone, hanno deciso di combattere effettivamente questo nemico e quindi hanno cominciato a reprimere in una forma estremamente brutale queste proteste. Che cos'è successo? Che in pochissime ore, in pochissimi giorni migliaia di cittadini cileni sono stati abusati dalle forze dell'ordine. Che cosa voglio dire con abusi? Che cosa intendo? Intendo cittadini uccisi, cittadini stuprati in gruppo, cittadini mutilati, cittadini pestati da 20 carabineros insieme, cittadini fatti sparire per giorni interi, cittadini buttati in un fiume facendogli saltare da metri interi, intendo crocifissioni di cittadini innocenti, torture nelle basi militari e soprattutto accecamenti. Cioè la cosa che hanno deciso di fare i carabineros, soprattutto cileni, è stata di togliere gli occhi dei manifestanti. Quindi dal primo giorno hanno puntato agli occhi dei cittadini. Come si acceca un manifestante? O si lanciano dei predigones, che sono pallottole di gomma in teoria, che però all'interno hanno del piombo direttamente agli occhi dei cittadini, o si lanciano delle bombe lacrimogene. Capirete bene che se vi arriva una bomba lacrimogena in piena faccia, se prendete gli occhi e basta, siete fortunati, perché una bomba lacrimogena ti uccide il 99% delle volte. Quindi io sono partita come giornalista freelance perché volevo trovare queste storie. Cioè io volevo capire cosa vuol dire nel 2019 avere magari 15 anni, averne 20 e perdere gli occhi per le proprie idee. Quindi sono andata, ho fatto il mio lavoro da giornalista, ho raccontato le mie storie sui principali giornali italiani. Però pensavo che non fosse ancora abbastanza e quindi ho deciso, scrivendo a Mabel Mori, che è una bravissima fumettista italiana, di fare una graphic novel che poi è uscita quest'anno per La Becco Giallo, che ha il patrocinio di Amnesty International e la prefazione di Roberto Saviano. E sostanzialmente quello che abbiamo fatto è stato soprattutto raccontare le storie di ragazzi accecati. Ma in realtà questa è una vera e propria inchiesta giornalistica fatta a fumetto. È un'inchiesta che non ha pretese di analisi politica, che non ha pretese di essere un fumetto sul golpe, ma che indaga le conseguenze che una dittatoria di 17 anni ha su una popolazione. Raccontare queste storie implica una responsabilità molto grande. Infatti con Mabel, ad esempio, non abbiamo mai litigato, però abbiamo discusso molte volte, perché lei comunque è una fumettista abituata a raccontare storie di fantasia. Quando invece si raccontano storie in modo giornalistico, storie che sono veramente accadute a delle persone, bisogna raccontare solo ed esclusivamente quello che è vero. Bisogna raccontare solo ed esclusivamente quello che è successo, senza prendersi licenze poetiche. Anche perché bisogna avere estremo rispetto della persona che sia davanti. Intervistare una persona che una settimana prima è stata accecata è una cosa molto delicata. Cioè se voi uscite da qui, semplicemente dopo questa chiacchierata, con la concezione che fare questo tipo di interviste, se vi toccherà farle, è difficile e dovete avere rispetto per la persona che avete davanti, io sono contenta. Perché comunque le persone che danno queste interviste che raccontano queste storie non sono politici, non sono cantanti, non sono scrittori che hanno appena scritto un libro, cioè non si stanno facendo pubblicità. Se vi raccontano le loro storie, vi stanno facendo un grandissimo regalo. Perché raccontare la propria storia, quando si è subito un trauma del genere, implica un altro trauma. Cioè la persona che avete davanti sta rivivendo quello che gli è capitato. E un conto magari è se una persona vi racconta di essere stata torturata 40 anni fa. Che comunque è una cosa tragica, quella persona quel giorno sarà malissimo. Quando voi ve ne andate magari potete tornare alla vostra vita, ma lei nella sua testa rivivrà quelle torture. Ma magari quella persona fa terapia da 30 anni. Quindi è riuscita un pochino ad elaborare quanto è successo. Invece, se voi intervistate persone che sono state accecate dieci giorni prima dell'intervista, state parlando con una persona che è ancora in stress post-traumatico. Quindi bisogna avere rispetto della persona che si è davanti e di quello che vi sta raccontando. E allo stesso tempo bisogna avere rispetto quando si racconta la sua storia. Perché quella persona, la maggior parte delle volte, è stata abusata. Ha visto violare i propri diritti nella maniera più terrificante. E dopo di che si è anche vista non poter raccontare quella storia. Cioè ha scoperto che nessuno le credeva, che nessuno voleva ascoltare quello che era successo. E magari è andata a denunciare quanto accaduto dagli stessi carabineros. E i carabineros gli dicevano, non è vero. Lei signora è una delinquente. Quanto accaduto non è vero. Se lei è stata accecata, è stata accecata sicuramente dai delinquenti che come lei sono scesi in piazza quel giorno. Ma se voi riuscite ad ascoltare quella persona, senza provocare ulteriori danni, e raccontate la storia così come è accaduta, come ve la racconta lei, verificando che quella cosa sia veramente successa, può essere anche terapeutico per chi ve la sta raccontando. Perché per la prima volta lei o lui vedrà la sua storia raccontata, magari anche ad un pubblico straniero internazionale, come lei l'ha vissuta. Quindi può anche essere un primo passo nella realtà dei fatti per tornare a vivere la propria vita, anche dopo aver subito un trauma del genere. La graphic novel in questo caso ci ha permesso di raccontare questa storia in un modo che i giornali non ci avrebbero permesso. Perché comunque, per quanto un giornalista possa essere bravo, far passare determinate cose, determinate sensazioni, solamente in un articolo, non è assolutamente facile. Una delle cose che ci ha permesso la graphic novel, per esempio, è stata di far vedere in tre capitoli al lettore la vita con gli occhi delle persone che sono state accecate. Quindi in tre capitoli noi abbiamo preso la prospettiva delle persone accecate, cioè abbiamo fatto vedere come era la loro vita prima e come poi è cambiata in un secondo quando un carabinero ha deciso di sparare ai loro occhi. E questa è una cosa, ad esempio, che non sarebbe mai stato possibile con degli articoli. Quindi sono diverse forme narrative che magari un podcast o una graphic novel permettono di poter raccontare storie che magari il giornalista ha già raccontato però in modo diverso. Quindi, se... non so se si possa vedere. Ad esempio, questa è la storia di Gustavo Gatica. Cioè, Gustavo Gatica è uno studente che nel 2019 ha 21 anni. È uno studente di psicologia che scende in piazza in Cile un giorno semplicemente per fare delle fotografie. Cioè, lui è sceso letteralmente armato solamente nella sua macchina fotografica. Quando è arrivato in centro a Santiago si è trovato in guerra. Lui era con altre decine di migliaia di manifestanti in mezzo a Santiago e a un certo punto i carabineros li hanno bloccati in una strada che tra l'altro è intitolata ai carabineros di Cile e hanno cominciato a lanciare bombe lacrimogene e a sparare ai manifestanti. Loro si sono difesi come potevano, quindi rompendo ad esempio la strada, l'asfalto con dei bastoni, con dei pezzi di metallo, con quello che trovavano e hanno lanciato quei sassi. Però capirete bene che se da una parte ci sono dei ragazzini con dei sassi che stanno lanciando quei sassi e un esercito armato vincerà l'esercito armato. Gustavo è un ragazzo più alto della media in Cile, quindi svettava sugli altri manifestanti. A un certo punto lui ha visto un carabinero, che oggi sappiamo essere Claudio Crespo, che ha puntato il fucile direttamente contro i suoi occhi. Ha sparato una volta, gli è arrivato un proiettile nell'occhio sinistro, ha sparato una seconda volta, gli è arrivato un proiettile nell'occhio destro. Quindi Gustavo, l'ultima immagine che ha della sua vita, è Claudio Crespo che spara direttamente ai suoi occhi. Gustavo è stato il primo manifestante completamente accecato durante la rivolta cilena. E questa è una vignetta presa da una foto che ha fatto il giro del mondo. Cioè Gustavo, che si trova seduto nel centro di Santiago, con un altro manifestante che gli tiene la mano e gli occhi da cui scende il sangue. Dopo aver mostrato quest'immagine comunque abbastanza terrificante, qua si vede Claudio Crespo, si vedono com'era diciamo quello che vedeva Gustavo quel giorno, quindi la manifestazione, Gustavo con la macchina fotografica. Noi abbiamo deciso di far vedere quello che ci siamo immaginate anche parlando con lui, Gustavo avesse visto quella mattina prima di alzarsi e andare alla manifestazione. Quindi noi qui literalmente abbiamo preso la prospettiva di Gustavo. Quindi lui si sveglia, vede la sua fidanzata che oggi è sua moglie, si fa la doccia, si veste, prende la macchina fotografica e scende e va alla manifestazione. Questo a cosa serve? Serve, come potete ben capire, a fare empatizzare il lettore. Perché comunque, come dicevo anche prima, sentire storie di persone che sono state accecate semplicemente perché sono scese in piazza a manifestare le proprie idee, a noi può sembrare una cosa estremamente lontana, estremamente difficile da capire, anche perché accade dall'altra parte del mondo. Io credo che fare una cosa del genere, cioè mostrare un capitolo, o in questo caso tre, dagli occhi delle persone che sono state accecate, facendo vedere che sono persone come noi, ragazzi come noi, che al mattino si svegliano, fanno colazione, prendono la macchina fotografica e vanno in centro, come potremmo fare noi, a una qualsiasi manifestazione italiana, aiuta molto il lettore a empatizzare e a capire quello che comporta prendere gli occhi per aver manifestato. Infatti poi abbiamo deciso di far finire questo capitolo con delle vignette in cui si vede, diciamo, quello che vedeva Gustavo, la manifestazione, quindi le sue mani e poi a un certo punto che tutto è diventato rosso, che tutto è diventato scuro quando è stato colpito in pieno viso. Ora, per farvi capire un po' di che cosa parliamo quando raccontiamo delle manifestazioni in Cile, questo per esempio è un video che fa vedere inizialmente quello che sono state proprio le manifestazioni, quindi quando le persone sono scese in piazza e poi quelle che sono state le proteste delle studentesse, soprattutto nella metropolitana di Santiago. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora, vi farò vedere un altro video che è difficile da guardare perché ci sono comunque immagini molto sensibili, quindi vi sto per far vedere un video in cui ci sono le persone che sono state accecate, quindi se qualcuno di voi è particolarmente sensibile a immagini violente, chiudete gli occhi e aspettate che finisca. Io credo che sia importante far vedere questo tipo di cose soprattutto nei tempi dei social media perché ad esempio a noi giornalisti i social media creano molti problemi, soprattutto in questi giorni in cui è in corso in cui è in corso il conflitto in Palestina e Israele per i giornalisti è abbastanza ridicolo vedere sui social media quello che arriva perché comunque i social media non fanno vedere le immagini più violente, immagini che però i cittadini hanno il diritto di vedere, hanno il diritto di capire che cosa stia succedendo tanto in Cile come in Palestina, come in Israele, come in Ucraina. Invece i social media comunque non permettono di far circolare queste immagini e fa un po' ridere vedere ad esempio i giornalisti che devono scrivere Palestina o Omas mettendo delle E e scrivendolo in modo che l'algoritmo non capisca quello di cui si sta parlando. Questo qua è un video che è stato fatto dalle stesse vittime di trauma oculare per spiegare quello che gli è successo. Io ve lo faccio vedere per poi andare a parlare di come si trasformano questo genere di storia, anche queste immagini potentissime, in una graphic novel. Come solo il cos'è che il mondo interrattano il processo autore ed, quindi si è stato fatto di essere affrontata. Sono in una panna a parlare di un po' ridere di un po' ridere di un po' ridere di un po' ridere un po' ridere. Sp phenllate le hanno parlare di un po' ridere di un po' ridere di un po' ridere, un po' ridere, un po' ridere. Grazie. 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 se sei affidabile, se metterai in pericolo quella persona, se racconterai la storia in un modo che non faccia danno a quella persona e dopodiché ti passano degli altri contatti per andare a intervistarla. Io per fare queste interviste ho dovuto fare delle cose che non avevo comunque mai fatto prima. A parte le accortezze di utilizzare email false, numeri falsi, per chiamare queste persone che avevano anche il cellulare sorvegliato io andavo in posti lontanissimi da casa mia per non far attaccare il cellulare a delle celle che fossero vicine a dove vivevo. Oppure dovevo chiamare delle persone i cui numeri mi venivano dati in un foglietto di carta dove c'era solo scritto Manuel, Fabiola, Juan eccetera eccetera e io li dovevo chiamare dicendo sono Juanita e vorrei comprare della marmellata. E lui mi diceva, ah bene Juanita, allora ci vediamo alle sei di domani in questo parco. E io andavo là senza neanche sapere chi fossero queste persone, assolutamente non dovevo dire che ero una giornalista, non dovevo dire il mio nome, non dovevo dire che li volevo intervistare. loro mi dovevano dare degli indirizzi o di case sicure, quindi comunque di case che loro sapevano che non erano sorvegliate, che non sarebbero state attaccate e dove loro potevano sentirsi veramente al sicuro per poter raccontare la loro storia. Oppure mi è capitato anche di fare interviste comunque difficilissime perché appunto parliamo di persone che magari erano state torturate per tre giorni, un mese prima, o che avevano perso l'occhio sinistro. E mi è capitato di doverle fare magari in dei parchi o magari in mezzo a un centro commerciale, camminando senza mai fermarsi, senza mai dare nell'occhio, perché comunque loro erano giustamente terrorizzati che poi ci fossero delle ripercussioni per queste storie, perché un conto è se poi la storia esce, quindi se magari tu pubblichi su Repubblica, sull'Espresso, quella storia comunque dà anche una certa protezione, nel senso che se si sa che quella storia è stata raccontata soprattutto da un giornale internazionale e poi magari un carabiniero ci pensa due volte ad andare a fare del male a quella persona, a minacciarlo o a minacciare il giornalista, però nel momento in cui ti vedono parlare con un giornalista e la storia non è ancora uscita, sì, quel momento è estremamente rischioso. Quindi tu comunque non sai cosa può succedere a te e non sai cosa possa succedere alla fonte, all'intervistato che ti sta parlando. Ad esempio una delle cose più difficili che ho fatto è stata andare con i medici della Primera Linea, perché quello che è accaduto in Cile nel 2019 è che, date le estreme violenze che c'erano da parte dei carabineros, si è formata la Primera Linea, la cosiddetta Primera Linea, una cosa assolutamente spontanea, in cui migliaia di manifestanti hanno deciso di scendere in piazza armati con degli scudi fatti in casa con delle lamiere di fortuna, con un casco e nient'altro, e di mettersi formando una linea proprio davanti ai carabineros, davanti ai carabineros, e a alcuni metri stavano poi i manifestanti normali. Perché facevano questo? Facevano questo per formare una specie di scudo umano, perché quelle pallottole che i carabineros sparavano arrivassero a loro e non arrivassero ai cittadini che manifestavano dietro di loro. Insieme agli scuderos si sono formate anche le brigate mediche, quindi brigate della salute formate da infermieri, medici, psichiatri, psicologi, che ogni giorno per due anni, perché poi la rivolta cilena ha avuto uno scoppio di alcuni mesi in cui scendevano milioni di persone in piazza, ma nella realtà dei fatti è durata per due anni, perché comunque per due anni migliaia di persone continuavano a scendere in piazza per protestare, quelle persone, quei medici, sono scese in piazza per due anni mettendo a rischio la propria vita per dare un primo ausilio ai manifestanti che venivano feriti dai carabineros o che venivano anche uccisi o che venivano portati via. Cioè loro quello che cercavano di fare era di dare delle cure inizialmente perché il cittadino non morisse o cercavano di impedire che i carabineros portassero via proprio fisicamente delle persone o se il paziente era troppo grave lo caricavano in delle piccole ambulanze che avevano creato e portavano il manifestante nel primo ospedale. Riuscire a parlare con queste persone è stato molto difficile perché questa comunque era un'attività illegale. Quindi prima di arrivare a loro praticamente ci ha messo dei mesi, mesi in cui altre persone di altre associazioni o avvocati che comunque li difendevano mi hanno fatto tremila interviste in cui volevano veramente essere sicuri che io non avrei fatto da anni, che non avrei rivelato mai i loro nomi o i loro volti o l'indirizzo dove avevano la base. Poi sono riuscita ad andare ed è stato agghiacciante perché sostanzialmente loro stavano in questo ufficio diciamo che era una casa in pieno centro prestata da un privato cittadino che aveva dato loro libero accesso alla casa perché si potessero cambiare, perché potessero tenere lì tutte le cose di cui avevano bisogno durante la manifestazione. Quindi io sono andata, ci siamo vestiti, vestiti intendo che bisognava trasformarsi in un palombaro sostanzialmente perché per riuscire comunque a farsi fare meno danni possibili durante una manifestazione del genere bisogna cercare di proteggersi. Quindi comunque quando poi siamo usciti da quella casa sembravamo veramente tipo dei palombari che stavano, non lo so, cosa stavano facendo oppure persone che stavano andando sulla luna. Ed è stato veramente impressionante. Eccoci qua. C'è questo è quello che bisognava mettersi addosso. Questa ad esempio era una ragazza a cui io ho cambiato il volto, cioè le persone che voi vedete qua disegnate da Mabel, sono tutte persone che avevano un volto diverso e a cui abbiamo inventato una faccia appunto per non divulgare la loro identità. E lì c'era pieno di ragazzi della vostra età o anche più giovani che magari stavano studiando come infermieri, come dottori e che ogni venerdì, perché sempre era il venerdì il giorno della manifestazione grossa a Santiago, per due anni sono scesi in piazza per aiutare i manifestanti. E questa ad esempio è una ragazza che aveva circa vent'anni, che è arrivata, mi ricordo queste scene, di ragazze che arrivavano con tutti i loro vestiti a filellini, perché poi era autunno, faceva ancora caldo, con i capelli che sapevano, ancora perfumavano di shampoo e che poi in cinque minuti si sono trasformate in dei palombari sostanzialmente, perché bisognava mettersi comunque una tuta impermeabile che proteggesse dai carri idranti, perché una delle tecniche per far disperdere la manifestazione è che arrivino dei carri idranti in cui però dentro non c'è solo l'acqua, ci sono anche delle sostanze che ti bruciano, quindi comunque se ti beccano negli occhi il dolore è incredibile e anche la pelle, cioè anche io mi sono ostionata tantissime volte, perché comunque quando ti colpisce il getto tu senti la pelle che va a fuoco e ti rimangono anche delle cicatrici, da tanto che sono forti queste sostanze. Quindi bisognava cercare di proteggersi il più possibile, mettendosi anche delle ginocchiere, perché chiaramente se devi aiutare qualcuno che è stato ferito ti devi buttare per terra per aiutarlo, ci si metteva il giubbotto antiproiettile, la mascherina perché poi c'era ancora il covid, sopra la maschera antigas, sopra ancora il casco e quindi quando si usciva si era diciamo quegli omini là che sembrano pronti per andare sulla luna. E la cosa che è stata impressionante è stato scendere da quella casa e passare per il quartiere di Santiago, in centro, che è una bella vista, che è uno dei quartieri dove si va a fare l'aperitivo, diciamo come potrebbe essere il pigneto a Roma o non so qua a Torino quale sia il suo rispettivo. E quindi io ero con queste decine di persone fra i 20 e i 30 anni soprattutto, che ogni venerdì sera invece di andare a fare l'aperitivo scendevano in piazza per cercare di salvare i manifestanti e siamo passati in mezzo a tutti i tavolini di persone che giustamente pure facevano l'aperitivo e che si sono trovati davanti a questa scena in cui guardavano con gli occhi spalancati questi palombari che si dirigevano verso Plaza di Nidad. E quindi siamo andati e quello che è successo è stato comunque ritrovarsi letteralmente in prima linea in una scena alla fine di guerra perché quello che succede sempre durante una manifestazione a Santiago o comunque in tutto il Cile è che la manifestazione comincia in una forma pacifica poi a un certo punto si cominciano a sentire le sirene se si è nei quartieri vicino si vede un fungo di fumo che sale dall'epicentro che è sempre Plaza Italia, Santiago e sono i fumi dei lacrimogeni e tu se sei in mezzo alla manifestazione in 30 secondi ti trovi in mezzo ai carabineros che ti lanciano le bombe che ti sparano che ti prendono con il caro idrante ti sbattono al muro e tu cerchi di sopravvivere e se sei un manifestante qualsiasi ti scappi cioè cerchi di andare dove puoi scappare dove puoi rifugiarti se sei invece un medico della prima linea come si vede qua nelle vignette finali ti devi mettere invece esattamente dove c'è il casino cioè dove ci sono i manifestanti dove ci sono i carabineros che ti reprimono perché tu sei l'unica protezione diciamo fra i carabineros e i cittadini che cercano comunque di uscirne vivi quindi io mi ricordo queste scene raccapriccianti in cui tipo cercavamo di prendere via dei cittadini che li hanno feriti con il carretto e arrivavano i carabineros che cercavano di metterci sotto con i loro carri armati a delle persone che avevano tutti gli scudi come si può vedere qua con la croce stampata sopra in cui si vedeva che cosa stavamo facendo che stavamo cercando di aiutare oppure quando siamo arrivati dal rio Mapocio che è questo fiume che attraversa Santiago i carabineros sono arrivati e hanno cominciato a spararci con il carro grande sempre più vicino tant'è che a un certo punto avevamo il carro grande alla distanza che c'è fra me e la prima fila di persone qua con questo oggetto potentissimo che ci sparava contro e per non finire di sotto nel rio Mapocio ci dovevamo tenere l'un d'altro cercando di darci forza totalmente piegati con gli scudi e siamo riusciti a sopravvivere però quella è una cosa che accadeva sempre tutti i venerdì quindi noi abbiamo cercato di rendere al meglio comunque queste scene che sono anche difficili da spiegare per chi non le ha vissute nel fumetto in questa forma quindi io ad esempio questo reportage l'avevo fatto inizialmente per l'Espresso e quindi era un reportage qualsiasi semplicemente con fotografie e un testo scritto e poi con Mabel abbiamo pensato che fosse giusto comunque trasformarlo anche all'interno della graphic novel perché far capire a delle persone che sono abituate magari a una manifestazione italiana che cosa vuol dire andare a una manifestazione cilena non è semplicissimo quindi magari raccontarlo effettivamente per come l'ho vissuto io che era una ragazza di circa 30 anni che andava per la prima volta a una manifestazione può far capire molto meglio a chi sta leggendo che cosa si sta vivendo rispetto solo a raccontare oggi ci sono stati 15 morti durante le manifestazioni due accecati eccetera eccetera quindi abbiamo scelto questa forma narrativa dopodiché per farvi capire anche un altro genere di storie e anche di forma narrativa che abbiamo deciso di adottare la seconda storia che abbiamo deciso di raccontare in prospettiva nel fumetto è quella di Fabiola Campigliai Fabiola Campigliai era lei che nel 2019 era una ragazza come si vede qua sulla vignetta sulla sinistra sulla mia sinistra di 36 anni che era madre di tre figli faceva l'operaia la pompiera come volontaria e non era attiva politicamente cioè quando è scoppiata la manifestazione in Cile Fabiola non voleva partecipare alle manifestazioni era molto contenta di quello che stava accadendo perché comunque Fabiola viene da San Bernardo che è uno dei quartieri più poveri di Santiago quindi conosce molto bene le ingiustizie cilene ha vissuto il modello cileno sulla propria pelle e quello che comporta però lei comunque non se la sentiva di scendere in piazza ma nel novembre del 2019 una sera esce di casa esce di casa insieme a sua sorella verso le nove perché dovevano andare a lavorare nella fabbrica in cui entrambe erano state assunte sono uscite di casa e davanti a casa di Fabiola c'è una strada che è più o meno grossa come questo spazio che c'è qui davanti quindi c'è un tratto di strada veramente piccolino non stava accadendo assolutamente nulla non c'erano manifestazioni era tutto tranquillo loro hanno svoltato l'angolo e lì si sono trovate di fronte a dieci carabineros dieci carabineros che hanno deciso di attaccarle nonostante Fabio e la sua sorella siano delle ragazze minute che letteralmente non potrebbero fare male a una mosca hanno deciso di attaccarle nel modo peggiore hanno lanciato in faccia a Fabiola tre bombe lacrimogene e altre dieci contro diciamo il suolo o i palazzi le case che c'erano vicine avere tre bombe lacrimogene che ti cadono in faccia è una cosa terrificante quindi Fabiola è immediatamente caduta a terra gli occhi li sono schizzati fuori dalle orbite sua sorella ha cercato immediatamente di prestarle soccorso i carabineros se ne sono andati senza aiutarli oggi abbiamo gli audio dei carabineros che sono raccapriccianti in cui si complimentano l'un l'altro per quello che hanno fatto ridono e dicono ah l'hai uccisa quella negra e se ne vanno ridendo Fabiola rimane lì con sua sorella disperata che cerca anche l'hai ferita di aiutarla nessuno presta loro soccorso riescono a chiamare dei vicini di casa che prendono immediatamente una macchina e la portano all'ospedale io ho intervistato Fabiola un anno dopo la sua aggressione quando è arrivata nella stanza io ho avuto un momento di panico perché comunque vedere i video di Fabiola vedere la sua faccia in uno schermo è molto diverso rispetto a trovarsela di fronte anche perché avevamo io all'epoca avevo 29 anni tra l'altro dal giorno del mio compleanno e lei ne aveva qualcuno più di me quindi comunque vedere una mia coetanea completamente deformata per semplicemente essere uscita ed essere andata al lavoro è stato un impatto emotivo molto forte quindi io non vi nascondo che ho avuto un qualche minuto in cui non riuscivo neanche a condurre l'intervista infatti comunque io le ho fatto le domande che mi ero preparata e dopo 15 minuti avevamo finito e io non sapevo più cosa chiederle perché poi eravamo io e lei su questo divano con suo marito che vigilava fuori che non arrivassero carabine in rosso o altre persone a cercare di portarci in prigione o ad attaccarci con una scusa e io e lei eravamo sul divano con lei che comunque dopo un anno doveva raccontare che cosa gli era successo a pochi metri da dove stavamo quindi comunque era di percorrere un trauma che era ancora fresco e io non sapevo bene come fare perché poi era da tantissimi anni che intervistavo tutte persone che sono state torturate durante la dittatura ma come vi dicevo prima un conto essere stati torturati 40 anni fa un altro da aver preso gli occhi un anno prima quindi la persona che hai davanti è fragilissima qualsiasi cosa che tu puoi dire la può ferire enormemente può portare anche quella persona a volersi togliere la vita se fai male l'intervista quindi comunque io ero terrorizzata per fortuna fra me e Fabiola si è creata subito una grossa empatia perché comunque credo che anche lei abbia capito che non volevo farle del male che era una situazione difficile anche per me e quindi lei ha cominciato a parlare a ruota libera e abbiamo fatto un'intervista poi di più di due ore perché lei ha cominciato a parlare ci siamo un po' sciolte e io poi ho cercato di farle anche meno domande possibili perché in realtà quando una persona che ha subito un trauma comincia a parlare voi quello che dovreste fare è ascoltare e cercare di interrompere meno possibile il loro flusso di coscienza quello che gli sta tornando in mente perché poi fare delle interviste del genere vuol dire rivivere quello che è accaduto cioè io ho visto anche persone magari di 70 anni con dei problemi fisici che normalmente balbettano che normalmente hanno un tremolio ricordare delle tratture che hanno subito 40 anni prima e che mentre che tu li intervisti e loro parlano e quindi si ritrovano di nuovo di improvviso in quella cella in quel centro di sterminio dove si trovavano loro si ritrovano ad avere di nuovo 20 anni cioè in quel momento la persona che tu hai di fronte non è più il vecchietto dei 70 anni che trema è il guerrigiero che è stato portato all'interno di una cella ed è stato torturato per dei giorni quindi quella persona ad esempio smette di tremare smette di balbettare magari prima aveva un italiano ostentato ed improvviso comincia a parlare in un modo super lucido perché comunque in quel momento lui sta rivivendo un trauma talmente potente che non sono passati 40 anni nella sua testa ne sono passati due giorni cioè lo sta rivivendo come se lui avesse 20 anni Fabiola quando mi raccontava quello che era accaduto un anno prima non era la persona che io avevo davanti lei era di nuovo quella Fabiola che aveva gli occhi che è uscita per andare al lavoro e che di improvviso si è trovata a terra con gli occhi fuori dalle orbite quindi lei stava rivivendo di nuovo quel trauma quindi capirete che veramente è come muoversi in mezzo a tanti pezzi di cristallo che non devi rompere quindi devi essere molto delicato e la cosa più impressionante che Fabiola mi aveva detto è che il momento per lei più difficile era quando sognava perché quando lei sognava aveva di nuovo i suoi occhi quindi lei sognava e poteva abbracciare i suoi figli poteva ballare con suo marito poteva uscire a passeggiare ma nel momento in cui sonava la sveglia o lei si svegliava perché suo marito la chiamava apriva gli occhi ed era tutto nero quindi lei di improvviso si ricordava quello che era accaduto si ricordava che non era più la ragazza di 36 anni che poteva lavorare e che poteva andare a fare quello che voleva e quindi lei in tre secondi si ritrovava completamente persa e quindi io ho deciso qua si vede Fabiola come è oggi perché Fabiola dalla ragazza che era oggi è una ragazza è una donna completamente deformata che ha subito dieci operazioni ma comunque non ha ritrovato la sua salute che ha perso gli occhi ha perso il senso del gusto ha perso l'olfatto non può neanche prendere in braccio suo figlio di dieci anni perché semmai rischia di perdere il liquido encefalico dal naso quindi è una persona che ha dovuto completamente imparare a vivere e quindi per far capire questa cosa quello che Fabiola ha perso abbiamo deciso anche qua di far vedere di nuovo il fumetto con la sua prospettiva e abbiamo preso la scena che io avevo appena descritto cioè quella di Fabiola che sogna ed è di nuovo capace di fare tutte queste cose quindi l'abbiamo nel fumetto messa ad organizzare la festa di compleanno di suo figlio che è una scena che lei mi ha descritto mentre eravamo a casa lei mi raccontava di per lei quanto era bello poter organizzare la festa di suo figlio preparare i dolci adorare la casa eccetera eccetera e che quelle cose le mancavano tantissimo quindi abbiamo fatto vedere questo dalla prospettiva dei suoi occhi quindi vediamo Fabiola che si guarda allo specchio vediamo Fabiola che prepara dei panini e vediamo nel riflesso di della cosa di metallo che si vede sul tavolo vediamo che bacia suo marito la vediamo riflessa negli occhiali che si mette suo figlio la vediamo di nuovo allo specchio mentre si fa fare una foto e poi vediamo che lo specchio si rompe perché nelle vignette che magari voi non potete leggere o non so se riuscite a leggerle raccontiamo esattamente quello che io vi ho appena spiegato cioè che ci sono delle mattine in cui lei si sveglia e si riprende dal sogno bellissimo ma allo stesso tempo terribile in cui lei aveva di nuovo i sbagli occhi quindi noi abbiamo fatto questa scelta narrativa anche qui per cercare di raccontare a un pubblico italiano o comunque europeo quello che accadeva che è accaduto in Cile nel 2019 e che a noi possono sembrare delle cose assolutamente lontane e questo che io vi ho appena fatto vedere appunto è la graphic novel che abbiamo fatto con Mabel Morby e che io ho deciso di fare perché mi sembrava che non fosse abbastanza da contarlo sui giornali e soprattutto perché dubito che una persona di 15 anni ogni domenica vada a comprare l'espresso e se lo legga al bar quindi io volevo che queste storie che sono state appunto vissute da persone poi di 15 16 20 anni per la maggior parte fossero lette in Italia o in Francia in Spagna dai loro coetanei quindi ho pensato che comunque la graphic novel fosse un mezzo che a parte per queste tecniche narrative che vi ho appena raccontato anche proprio come linguaggio fosse un mezzo che potesse arrivare molto di più a delle persone che magari vanno alle superiori e che si informano tramite i social o non lo so tramite i podcast ma che normalmente non compra nei giornali e un'altra di queste diciamo operazioni narrative come che ho fatto come vi accennavo all'inizio è stata quella del podcast DNA che potete comunque trovare anche su Spotify se volete ascoltarlo e quello è appunto un lavoro che io ho fatto grazie a un premio europeo un lavoro che appunto racconta queste storie terrificanti di bambini che vengono rapiti e vengono cresciuti dagli assassini dei loro genitori sono storie agghiaccianti cioè cosa c'è di più terrificante che inventarsi un piano del genere credo poche cose al mondo e quindi spiegare queste storie raccontare queste storie che hanno dell'incredibile a un pubblico che magari legge quell'inchiesta mentre sta andando al lavoro in Italia non è affatto semplice quindi per far arrivare di più la storia io ho fatto anche questo podcast di otto puntate quindi comunque un lavoro molto lungo che può far avvicinare il lettore in un'altra maniera a queste storie quindi ad esempio una delle storie che ho raccontato che è una delle più incredibili che io abbia mai ascoltato è quella di Claudia Povlete Claudia Povlete oggi è una ragazza una donna che ha 45 anni e che quando è scoppiata la dittatura era nella pancia di sua mamma sua mamma era una giovanissima militante come suo padre erano due militanti che militavano in Argentina e che quando è scoppiata la dittatura chiaramente si sono dovuti nascondere hanno cominciato a vivere in clandestinità perché sapevano che 99 su 100 sarebbero stati sequestrati e sarebbero stati fatti sparire dopo mesi anni giorni di torture terrificanti in tutto questo Claudia nasce nasce ci sono foto bellissime di sua madre che la tiene fra le braccia di Claudia con sua nonna eccetera eccetera se non che un giorno arrivano i militari che portano via la coppia e portano via anche la bambina la bambina viene data in adozione illegale perché poi questi bambini venivano semplicemente registrati come figli dei militari a Ceferino Landa che è una persona che ha molto probabilmente partecipato alle torture dei genitori di Claudia che molto probabilmente ha ucciso la mamma e il papà di Claudia e che poi ha deciso di portarsi questa bambina a casa e crescerla come se fosse propria Claudia però aveva una serie di cose che non sapeva spiegare ad esempio un giorno quando era molto molto piccola l'hanno portata in una pizzeria in una pizzeria in cui c'era una gigantesca mano di ceramica messa così per raccogliere le mance Claudia ha cominciato a piangere ad urlare talmente tanto che non riusciva più a respirare e quindi i genitori l'hanno portata via l'hanno portata a casa questa è stata una delle cose che le è accadute poi lei si ricorda questi viaggi assurdi in cui da un giorno all'altro i genitori quelli che lei credeva che fossero i genitori la portavano via e la facevano stare via magari a Parigi o magari in Nicaragua o a Londra per dei mesi senza spiegazione o magari anche un anno poi un'altra cosa particolare che lei si ricordava è che quando lei era piccola il crattone che era più di moda era Heidi ma lei non voleva mai essere Heidi quando giocava con le sue amiche voleva sempre impressionare Clara cioè l'amica di Heidi sulla sedia d'hotel e lei si metteva su una sedia d'ufficio che aveva suo padre in casa e si faceva sempre spingere dalle amiche e queste sono cose che lei non è mai riuscita a spiegarsi un giorno poi qualcuno le dice che non è figlia di quelli che pensava che fossero i suoi genitori perché il piano dei militari argentini era perfetto chi è che può trovare un bambino che viene rapito soprattutto se viene rapito dai militari che sono le persone più potenti dentro la dittatura nessuno lo può trovare cioè quel bambino viene fatto sparire chi può cercarlo chi può trovarlo fra milioni di abitanti in Argentina solamente che i militari non avevano tenuto conto delle nonne di questi bambini nonne che dal primo giorno sono scese in piazza davanti al palazzo presidenziale argentino e hanno cominciato a manifestare inizialmente chiedevano dove sono i nostri figli fateci vedere i nostri figli donde stan donde stan hanno cominciato a manifestare mettendosi in testa un panno bianco in cui avevano ricamato all'uncinetto il nome il cognome del figlio fatto sparire la data di sparizione e loro sono state bollate come pazze le pazze della piazza a Plaza del Magio questa era come sono state conosciute per anni le madres Savuelas de Plaza del Magio in Argentina donne che hanno letteralmente deciso di sfidare una dittatura e di fare la cosa più pericolosa che si possa fare durante un regime cioè andare davanti al palazzo dove ci sono i militari e protestare però loro non si sono mai arrese tant'è che se voi oggi andate in Argentina a Plaza del Magio il giovedì alle 5 e mezza arrivano sempre le madres Savuelas de Plaza del Magio che adesso hanno 90 anni magari in sedia a rotelle ma che ogni giovedì ancora ammarciano chiedendono dove sono i nostri figli queste donne che hanno cominciato a manifestare e ovviamente sono state picchiate sono state minacciate e il gruppo originario il nucleo delle 13 madres de Plaza del Magio quelle che hanno fondato il movimento sono state sequestrate stuprate torturate e fatte sparire con un volo della morte loro mentre camminavano hanno cominciato a confrontarsi e hanno cominciato a chiedersi dove sono finiti i nostri nipoti cioè mia figlia era incinta di 5 mesi dov'è quel bambino oppure io so che mia figlia aveva prattorito che aveva una bambina di 3 mesi quando è stata prattata via dove è finito e quindi hanno cominciato a cercarli ovviamente tutti gli hanno detto che erano pazze ma come è possibile come potete pensare che qualcuno rapisca un bambino loro però non hanno assolutamente deciso di arrendersi e quindi hanno cominciato a raccogliere prove e sostanzialmente in pochi anni la vuela de Plaza del Magio e le madres de Plaza del Magio hanno fatto cadere la dittatura perché hanno continuato a protestare sono riuscite a rompere il silenzio internazionale e le vuela de Plaza del Magio hanno cambiato letteralmente le leggi argentine sono riuscite a convincere i giudici che quello che dicevano non era falso sono riuscite a convincere lo Stato appena sono tornati in democrazia che quello che dicevano non era falso hanno creato il primo banco dati con il DNA dei desaparecidos per confrontare in realtà con il loro DNA perché chiaramente i genitori erano scomparsi e quindi hanno fatto venire dei genetisti dall'America dagli Stati Uniti e hanno creato una formula per cui con il loro DNA riuscivano poi come nonne e nonni a confrontarlo con quello dei bambini scomparsi per capire se fossero effettivamente i loro nipoti e hanno creato questa banca gigantesca il Banco del Dato Geneticos che si trova a Buenos Aires quindi queste nonne che venivano semplicemente chiamate pazze hanno cambiato le religie argentine hanno cambiato anche il mondo scientifico e ad oggi hanno trovato 133 di quei nipoti scomparsi una è stata Claudia Claudia Poblete che è stata cresciuta come sotto una campana di vetro letteralmente perché i genitori erano terrorizzati dal fatto che li scoprissero dal fatto che gliela portassero via quindi questa bambina e poi ragazza non poteva mai uscire di casa se usciva di casa lo poteva fare solo ed esclusivamente con persone che i genitori conoscevano che nel 90% dei casi erano militari o figli di militari poteva andare solo ed esclusivamente in scuole militari o cattoliche non si poteva andare in vacanza non si poteva avere un fidanzato nella libreria di casa c'erano solo libri la maggior parte nazisti scelti da ceferino l'olanda e questa era stata la sua vita per cui immaginate quando è arrivato un magistrato che gli ha detto noi ti dobbiamo fare il testo del dna perché lo richiedono la vuola strada del magio lei dai suoi supposti genitori sapeva che queste nonne erano delle criminali erano delle terroriste che sicuramente le avrebbero mentito per portarla via da loro quindi lei è andata a fare questo test dicendo ok se mi dicono che io sono figlia di De Savare Sidos è una menzogna non è assolutamente vero però lei è andata le hanno detto questa cosa lei è rimasta traumatizzata però nella sua testa è scoppiato qualcosa cioè lei sapeva che era vero quando lei ha visto sua nonna quando ha visto i suoi familiari ha capito che era vero perché lei era uguale a loro cioè lei ha capito che era veramente figlia biologica di De Savare Sidos perché ha guardato sua nonna ed era uguale a lei quindi qualcosa all'interno di tutta quella menzogna che le avevano raccontato si è rotto Claudia per lasciare diciamo il rapporto con i suoi rapitori ci ha messo 17 anni 17 anni di terapia 17 anni in cui lei a livello razionale sapeva di essere stata rapita sapeva di essere stata cresciuta dagli assassini dei suoi genitori ma ugualmente non riusciva a rompere il rapporto con i suoi rapitori ma poco a poco la nonna e lo zio che hanno deciso di starle accanto le hanno fatto fare dei click in testa cioè ad esempio loro hanno spiegato delle cose per cui quegli eventi inspiegabili che lei aveva vissuto finalmente avevano senso all'inizio vi ho raccontato ad esempio della pizzeria perché Claudia quel giorno si è messa a piangere quando ha visto la mano di ceramica Claudia per un anno comunque ha vissuto con i suoi genitori sua madre era una scoltrice e aveva una fissazione per le mani quindi nella casa dove vivevano era pieno di mani di ceramica mani gigantesche quindi lei quando poi ha visto queste mani si è ricordata di qualcosa di razionale che aveva in testa e ha cominciato a piangere perché Claudia voleva sempre fare Clara quando impersonava il grattone di Heidi con le sue amiche suo padre era disabile e suo padre che non aveva le gambe per un incidente in treno la portava sempre in giro in casa facendosi spingere la sua madre su una sedia con le rotelle che aveva e giocavano in questo modo quindi lei se anche se a livello razionale non si ricordava di queste cose erano fatti che le ritornavano alla mente in comportamenti che lei non riusciva a spiegarsi comportamenti che comunque i militari non erano riusciti a cancellare e comportamenti che poi hanno fatto sì che lei credesse a quelle persone che le raccontavano questa storia incredibile cioè di essere stata rapita e cresciuta dagli assassini dei suoi genitori che è una cosa che come potete capire è estremamente difficile da metabolizzare però se al tuo interno ti rimangono delle cose del genere e poi hai delle persone di fronte che te le confermano tu sei molto più portata a crederci ora questa storia è molto bella molto potente molto anche terrificante però ha una sua potenza narrativa incredibile il problema tra virgolette è raccontare una storia che è comunque così distante da noi a persone appunto che una cosa del genere non se la possono neanche immaginare quindi ad esempio io in questo caso ho deciso di partire da una cosa banale e da una cosa che io ho potuto fare solo grazie al podcast e comunque alla sua forma narrativa cioè io ho deciso di partire da una cosa che Claudia mi ha detto alla fine della nostra intervista e che io in un articolo non avrei mai potuto mettere perché è una cosa audio cioè Claudia mi ha raccontato che uno dei momenti più terrificanti per lei è stata quando è andata a vedere un film Disney con sua figlia dopo che aveva scoperto la sua vera identità perché vedendo quel film della Disney lei ha capito che la protagonista aveva vissuto esattamente la sua stessa storia e io ho pensato che fare iniziare una puntata di una storia così difficile da raccontare e anche da recepire per un lettore o un ascoltatore con una cosa che per noi è quotidiana cioè che andare al cinema a vedere un film Disney potesse avvicinare molto di più il lettore quindi adesso vi faccio ascoltare come l'abbiamo cominciata se va vabbè c'è la pubblicità la donna la donna vedendo lei è la donna la donna la donna secondo la sposa la donna la donna è nata da un re e una regina ma viene latina da una stella che la sceglie dietro di essere amare durante la canzone la donna spiega alla donna quanto si è brutto il mondo quanto si è incoloso e cosa ne potrebbe succedere se annun parla Grazie. 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 Noi sembrano comunque storie molto lontane, ci sembra impossibile poterli conoscere. In realtà vivono fra di noi, perché le avuelas da anni denunciano il fatto che questi ex bambini che oggi hanno fra i 40 e i 45 anni vivono fuori dall'Argentina anche e soprattutto vivono in Europa, dove tantissimi militari sono scappati quando hanno capito che avrebbero potuto prenderli e portargli via il bambino. Cioè, che poi adesso è un adulto chiaramente. Oppure, semplicemente possono essere persone che sono immigrate in Europa per lavoro o per cose di studio, perché hanno deciso di trasferirsi. Quindi l'attesa di questa inchiesta era che qualsiasi persona che noi conosciamo che abbia fra i 40 e i 45 anni può essere un figlio di desaparecido argentino senza saperlo. E quindi per un anno io sono andata in Europa insieme a un altro team di giornalisti del Gardia Nelle Mondo per cercarli. E questi bambini li abbiamo trovati. Uno di questi ex bambini è un signore che vive a Londra e che di questa storia non ne vuole sapere. Lui, erano anni che non voleva parlare con nessuno. Lui sa di essere figlio di una desaparecida, perché le abuelas di Plaza de Maggio gliel'hanno detto parecchi anni fa. Ma lui non vuole parlare. Noi l'abbiamo convinto a parlare con noi. Abbiamo fatto questa intervista che è stata veramente difficile, perché comunque lui è convinto che i suoi genitori adottivi lo amassero. E il suo papà è uno dei più feroci criminali della dittatura argentina. Era il secondo in capo dell'ESMA, che è il più grande centro di tortura e esterminio di Buenos Aires, dove 5.000 detenuti sono stati portati, torturati, uccisi e fatti sparire. Suo padre è un criminale di guerra e l'ha rapito per trasformarlo in un cittadino modello. Però lui non è pronto a prendere le distanze da lui, perché probabilmente impazzirebbe. E queste sono cose che un giornalista deve rispettare. Quindi noi abbiamo fatto questa intervista assolutamente senza punzecchiarlo, con tutto il rispetto del mondo, semplicemente chiedendogli la sua opinione. Dopodiché chiaramente nel lavoro giornalistico che abbiamo fatto noi non siamo diventati il suo megafono, perché c'è anche questo rischio. Che se un intervistato, ad esempio, vi dice che il suo papà lo ama tanto e che l'ha portato via perché sua madre era una rivoluzionaria infetta, queste non sono cose che tu puoi riportare così, perché diventi il megafono di una persona che sta dicendo una bestialità. E sta dicendo quella bestialità perché comunque è una vittima a sua volta. Quindi bisogna riportarli in un certo modo. Io a un certo punto sono entrata in possesso di la voce di sua madre, degli audio, perché sua madre era questa donna, che è stata un caso importantissimo in Argentina, perché lei è stata tenuta dentro un centro di tortura in democrazia. Cioè lei è stata rapita quando c'era la dittatura dai militari e poi è riuscita a chiamare i suoi genitori molte volte dal centro di tortura da cui si trovava. Le ultime volte in cui ha chiamato era già da un anno che nel paese c'era la democrazia. Quindi vuol dire che in piena democrazia c'erano ancora delle persone che venivano tenute nei centri di grande stile di tortura. E sua madre ha avuto l'accoratezza a un certo punto di registrare queste chiamate. Io mi sono trovata con questi audio terrificanti in cui si sente il dolore di questa donna, in cui si sente questa donna che implora alla madre di cercare il suo figlio. E lei dice che il suo figlio è nato, che l'è stato portato via, per favore mamma cercalo. E far sentire questa voce con la disperazione della nonna per poi raccontare la storia di suo figlio che viene rapito e poi ritrovato dall'avuelas ma che non è pronto a lasciare il rapporto con i suoi rapitori, comunque ha un impatto completamente diverso rispetto a leggerlo. Quindi per chiudere vi faccio ascoltare queste chiamate che è l'inizio della terza puntata. Grazie. 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 La fine è la vicenda di una tranquilla di non preoccuparsi perché sta bene. La risposta è inunitiana. Come posso prendere la vita a una mia? E poi mezzo mezzo donna e parla, che aveva un po' di dormiti, arriva alla ricerca del dito, cercando un figlio, mamma. E' un figlio che si stava a scendere, che non mi stava a scendere, non mi stava a scendere. Se vuoi amare, vuoi farlo, non mi stava a scendere. Ora, potete finire i tanti di questa donna. Sua figlia è scomparsa e da sei anni la diceva incessantemente. Tutti i giorni si sveglia e si pide l'oreggia e come forza calda a trovarla. Adesso però, faccia oltre la sua figlia. deve cercare anche su un po' la sua norma, il centro di tendenza nel cuore di modo tale. Una sfida è impossibile. Sono molto nuove le famiglie che avrebbero potuto prenderlo. E niente. Quindi questo era quello che vi volevo raccontare. Io non so se avete domande o qualche curiosità. Nel caso, sì. Vai, vai. 500. Da trovare? Eh, ne hanno trovati 133. Quindi, comunque, sono ancora molti. E l'ultimo che è stato trovato è di pochi mesi fa. E tra l'altro è una storia bellissima e che è raccontata in questo podcast. Quindi, anche per me che ho raccontato poi la notizia per Repubblica è stata di un certo impatto emotivo. Perché conosco la famiglia Santuccio, che è la famiglia di guerrieri più importanti della storia argentina. Quindi tutti in Argentina sapevano che loro stavano cercando questo bambino che era nato in un centro clandestino, dalla mamma che era anche Elena Guerrigliera. Tutti sapevano che lo stavano cercando, ma ci sono voluti comunque più di 40 anni perché questa persona si facesse viva. Perché era un uomo che aveva sempre avuto dei dubbi sulla sua identità, che però aveva paura di, diciamo, ferire, tra virgolette, quelli che pensava essere i suoi genitori adottivi e quindi non si voleva fare avanti per fare il test del DNA. E quindi, quando è morta la persona che l'ha rapito, lui si è fatto avanti e ha scoperto che aveva questa famiglia, che in Argentina è famosissima, che lo stava cercando da 40 anni. E quando io ho acceso il computer per seguire da Santiago del Cile la restituzione, perché poi quello che fanno le abuelas, che hanno anche una macchina comunicativa bellissima, è che quando loro trovano un nipote fanno una conferenza stampa, in cui possono accedere tutti i giornalisti e i cittadini argentini. La sala, che è più grossa di questa, è sempre piena di persone. Fino a quel momento anche i giornalisti che hanno più vicini, o anche proprio se hai dei rapporti di amicizia con la persona che ha ritrovato un nipote, come era il mio caso, perché io conosco bene i familiari di questo ragazzo, li avevo intervistati anche per questo podcast e non solo, loro non possono dire niente. Loro non raccontano a nessun giornalista o a nessun amico che hanno appena ritrovato il loro nipote. Quindi poi si accende la telecamera e tu capisci che hanno trovato vedendo le persone che sono sedute. Io mi ricordo che ero in questo co-working, quando ha acceso il computer ho visto Miguel Santuccio, che annunciava di aver trovato il suo fratello e non ho capito più niente. Mi sono messa a piangere e infatti l'articolo di Repubblica si era andato da genio a scriverlo. Però questo per dire che comunque sono storie che magari un giornalista segue per tantissimi anni e che poi hanno anche un impatto emotivo molto forte, perché poi con queste persone che devi sempre, diciamo, tenere un po' a distanza, perché sono fonti, tu devi raccontare la loro storia, però si creano degli impatti, dei legami emotivi fortissimi. Quindi quando poi accadono queste cose non è un giorno bello solo per la famiglia, ma anche per tutti quelli che hanno cercato di lavorare anche a questa restituzione. Sì, adesso la situazione è tragica. Allora, quello che è accaduto, per chi non lo sapesse, è che dalle rivolte del 2019, che comunque, come vi ho raccontato, per due anni non si placavano, a un certo punto si è fatto un accordo politico in cui i politici cileni hanno deciso che per far placare queste rivolte si sarebbe iniziato un processo per sostituire la Costituzione, perché il Cile è uno dei pochi paesi in cui è caduto il dittatore e non si è tolta la dittatura che aveva scritto il regime. Quindi ancora oggi la Costituzione attuale cilena è quella che è stata scritta durante la dittatura di Pinochet. Una Costituzione che comunque va pensata come se fosse una maglia di forza, perché impedisce ai governi di cambiare veramente nel profondo la struttura del paese. Quindi si decide di fare questa nuova Costituzione, si fa un'assemblea formata da 155 cittadini eletti democraticamente. Anche qui, diciamo, non l'hanno visto arrivare, anche in questo caso, quindi c'è stata l'elezione e sono stati eletti 155 cittadini a maggioranza di estrema sinistra o indipendenti. Quindi si sapeva dall'inizio che quella Costituzione sarebbe stata un testo estremamente progressista, soprattutto per quanto riguarda temi di natura sociale, quindi temi ambientali, temi femministi, temi comunque volti a tutelare i diritti della popolazione. Si fa il referendum il 4 settembre scorso, vince, anzi stravince, con il 62% dei voti il recesso. Quindi questo testo va a farsi benedire, non si può sostituire. Quando è accaduto questo, diciamo sempre per lo stesso meccanismo di cui vi raccontavo prima, in cui i giornali raccontano l'America Latina quando accade qualcosa di grave, i lettori comunque hanno detto oh, cosa è successo? Ma che sorpresa! Cioè il Cile sembrava così predisposto a questo cambiamento per Dinci Bacco. Ma diciamo che per chi viveva lì questa cosa non è arrivata assolutamente a sorpresa. I segnali erano assolutamente chiari. Peccato che se tu leggi giornali e non hai corrispondenti, tutta questa parte ovviamente non la vedi, quindi rimani di sasso quando accade. Che cosa è accaduto? Cioè dal primo momento i media cileni, i media principali, i media che ascoltano, leggono, guardano milioni di persone, hanno cominciato una campagna incredibile contro la nuova Costituzione. Quindi all'inizio per settimana hanno detto che erano dei pagliacci, dei fannulloni che stavano rubando i soldi, dei contribuenti, eccetera, eccetera. Dopodiché hanno cominciato con la creazione di fake news, fake news fatte ad arte. La prima e quella più potente, che non si è mai tolta dalla popolazione, diciamo, è che se fosse passata la nuova Costituzione, lo Stato cileno ti avrebbe portato via la casa. Voi dovete mettervi nei panni di persone che hanno sofferto per 17 anni di una dittatura, una dittatura che ha dimostrato che chi ha il potere può fare quello che vuole. Quindi è plausibile, diciamo, che ti portino via la casa in una situazione del genere. Quindi, quando arriva a sorpresa questo risultato, io sono andata a fare delle inchieste, sono andata a Petorca. Petorca è una provincia che sta nel nord del paese, una provincia che in Cile è famosissima, perché da anni Petorca è senza acqua, perché è senza acqua a causa degli avocado che mangiamo noi, perché da quando l'avocado, con questi cavolo di avocado toast, sono diventati così popolari, così di moda in Europa, si è cominciato a coltivare in modo intensivo questo frutto tropicale, un frutto che però ha bisogno di tantissima acqua. In Cile, con la Costituzione che c'è, con il sistema neoliberista che c'è, si è andati a nozio con questa cosa. Quindi, il nord del Cile, in particolare la provincia di Petorca, è stata trasformata tutta in una coltivazione intensiva di avocado. Dato che l'acqua nella Costituzione di Pinochet è privata, quelli che coltivano intensivamente l'avocado possono fare quello che vogliono. Quindi, gli abitanti di Petorca non hanno acqua, perché serve per coltivare gli avocado che mangiamo noi. Quindi, comunque, i cittadini di Petorca, gli studenti non possono andare a scuola, cioè una volta o due l'anno, di solito le scuole vengono chiuse, perché non hanno neanche l'acqua nei bagni. Quindi capirete bene che non è possibile andare a scuola in queste condizioni. I cittadini che hanno accesso all'acqua in casa, ce l'hanno perché lo Stato cileno paga un servizio privato in cui dei camion cisterna portano l'acqua nelle case. La provincia di Petorca è completamente secca. Ovviamente, la nuova Costituzione avrebbe tutelato questo genere di realtà, avrebbe risolto la situazione di Petorca, perché Petorca è riuscita a fare una cosa incredibile. Cioè, nell'Assemblea Costituente è riuscita a fare leggere un attivista proprio di lì, un attivista dell'acqua, che ha curato il dibattito dell'acqua nella nuova Costituzione, e che avrebbe garantito che l'acqua non sarebbe più stata privata nel nuovo testo. Quindi, quello che accade quando il recesso vince con il 62% dei voti è stato, guardiamo quali province hanno votato effettivamente contro in questo disastro che è appena accaduto. A Petorca aveva vinto il recesso. Cioè, come è possibile? Una provincia che avrebbe beneficiato immediatamente del cambio della nuova Costituzione vota contro. Quindi, con una collega abbiamo preso la nostra macchinina, Samata Petorca. A Petorca parlavi con... Cioè, sono andata tipo nelle scuole, nei mercati, nei supermercati, nelle vie del paese, a parlare con le persone. Magari parlavo con delle donne che lavoravano al mercato, donne che non hanno finito la scuola, che hanno un basso livello, diciamo, scolastico, che lavorano 10 ore al giorno, e che mi dicevano io non riuscivo alla sera a tornare a casa a leggere il testo della nuova Costituzione. Ha ragione, signora. Cioè, era difficile per me che sono una giornalista, mi immagino per lei. E quindi, questa persona si informava tramite i social media o tramite quello che sentiva la radio o la televisione. Quello che le veniva detto era ti portiamo via la casa. se vince la nuova Costituzione, tu non avrai più una casa. E quindi, loro a questa cosa, ad esempio, ci hanno creduto. Quando poi io le chiedevo scusi, ma com'è la situazione dell'acqua qui? Quella persona parlava della situazione dell'acqua in un modo eccezionale. Cioè, in un modo che neanche un attivista, un ricercatore, avrebbe potuto spiegarla. L'anno perfette in quello, informatissime. Quando le chiedevo ma quindi la nuova Costituzione perché ha votato contro se avrebbe cambiato questa situazione. No, non è vero. Noi poveri siamo sempre nasciti da soli. Per noi non sarebbe cambiato niente. E invece mi avrebbero portato via la casa. Questo vuole dire che comunque c'è stata una propagazione di fake news fortissima. Ma non è solo quello. Cioè, quello che è accaduto è anche che comunque forse si è andati troppo in là. Cioè, il Cile è il paese più conservatore dell'America Latina con la nuova Costituzione sarebbe diventato il più progressista. Forse fare questo cambio in così poco tempo non era possibile. Però, se chiaramente tu fai un racconto mediatico in cui il Cile in cui la cosa che i politici più progressisti ti possono dire è che vogliono rendere meno privatizzata la salute che da noi sarebbe un discorso praticamente democristiano e invece a livello mediatico viene raccontato come una cosa incredibile di estrema sinistra e il Cile viene raccontato come il baluardo della nuova sinistra a livello mondiale chiaramente quando puoi si votare ciasso tu rimani sorpreso. Dopodiché c'è un terzo fattore. La dittatura di Pinochet in Cile ha lavorato estremamente bene. Quindi comunque ci sono tantissime persone che rimpiangono il dittatore che non vogliono perdere i pochi privilegi che hanno e che hanno terrore di qualsiasi cosa sia di sinistra perché pensano che sia comunista che il Cile diventi la nuova Venezuela che il Cile diventi il nuovo Cuba e di cui non si può parlare di nessun tipo di riforma. Quindi questo è quello che è accaduto. Dopodiché il governo Boric che è il governo attuale il più giovane presidente cileno un governo progressista aveva contato tantissimo sulla nuova costituzione per cambiare il paese perché il suo sarebbe dovuto essere un governo di rottura. Quindi ha deciso comunque di continuare facendo un secondo processo costituente. C'è stata presa la decisione che a scrivere questo nuovo testo però sarebbero stati politici e ci sono state le elezioni in cui sono stati votati a maggioranza i politici del Partito Repubblicano l'estrema destra cilena. Quindi attualmente a scrivere la Costituzione cilena è un partito che non vuole cambiare la Costituzione e che ha già detto che il testo che presenteranno sarà molto simile o uguale a quello attuale della Costituzione di Pinochet o anzi peggiorativa perché ad esempio adesso hanno fatto passare un articolo in cui si vieta in qualsiasi caso l'aborto. Cioè oggi in Cile l'aborto dopo una lunga lotta è permesso se la donna viene stuprata se la vita della donna è messa in pericolo se il feto è messo in pericolo e la nuova Costituzione renderebbe impossibile l'aborto anche in queste tre causali. Adesso fra un po' di mesi ci sarà il referendum in Cile non si manifesta più in Cile se si approverà la nuova Costituzione sarà uguale a quella di Pinochet o peggio in Cile le persone di cui vi ho raccontato prima che grazie al lavoro di Amnesty International sappiamo che sono 11.000 le persone abusate durante la rivolta non hanno ottenuto giustizia la maggior parte si sono suicidate o hanno cercato di suicidarsi e i casi in cui si è ottenuta giustizia e con giustizia intendiamo che semplicemente magari il carabiniero è stato sospeso sono su 11.022 quindi la situazione oggi in Cile purtroppo è drammatica scusa per la botta di felicità che ti ho dato ci spazio per un'ultima domanda grazie grazie e allora non si sa principalmente chi vincerà al ballottaggio perché comunque il primo turno è stato vinto da Massa che è il candidato peronista eh sì però se tu sai leggere il futuro meno male però nel senso non è ancora detto perché comunque anche il primo turno doveva assolutamente essere vinto da Miley e invece comunque i peronisti sono riusciti in qualche modo a vincere il primo ballottaggio dopodiché la situazione è drammatica è pericolosissima perché comunque Miley è un pazzo scatenato e in delle democrazie che sono ancora diciamo giovani avere una persona come Miley ma come è stato anche Bolsonaro in Brasile cioè possono fare dei danni incredibili quindi è una situazione assolutamente da tenere sotto controllo però l'Argentina è uno dei paesi al mondo che ha fatto un lavoro sulle vittime della dittatura meglio riuscite in assoluto nel senso che in Argentina si parla di desaparecidos in Argentina quando c'è l'anniversario del golpe il 24 marzo scendono in piazza decine di migliaia di persone in Argentina l'Avuelas e Plaza de Maggio comunque per la maggior parte della popolazione sono dei monumenti nazionali e se tu dici a un argentino che Stella Carlotto che tra un po' c'ha 200 anni ed è la presidente dell'Avuelas potrebbe morire ti guarda comunque terrorizzato perché è successo? perché comunque in Argentina sono state fatte una serie di politiche pubbliche volte a scoprire effettivamente cosa era successo durante la dittatura che sono state messe in atto per anni cioè bisogna pensare che in Argentina accade la dittatura e dopo due anni mettono su la commissione del Nunca Mas una commissione tra l'altro guidata da uno scrittore Ernesto Sabato che indaga su quanto è accaduto in quegli anni quindi lo stesso Stato che per anni aveva massacrato fatto sparire delle persone due anni dopo va a chiedere conto di quanto è accaduto cioè spiegami cosa ti è successo e io lo racconto esce il Nunca Mas che è anche un libro che potete leggere in cui nel rosso e bianco senza nessun tipo di censura vengono raccontati solo due anni dopo gli orrori della dittatura in Argentina c'è stato un momento in cui per anni ci sono state delle leggi di amnistia in cui chi aveva compiuto dei delitti durante la dittatura non poteva essere processato poi comunque per volontà popolare sono state cancellate quindi l'Argentina è assolutamente il paese che nel cono sur ma non solo anche a livello mondiale ha fatto il lavoro migliore per le vittime della dittatura cioè non è assolutamente comparabile con il Cile cioè in Cile non è stato assolutamente fatto ancora pace non è stato ancora fatto nulla quasi per le vittime della dittatura invece in Argentina comunque le persone che oggi sono in prigione per i crimini commessi durante il regime sono più di mille cioè è un numero comunque incredibile e in Argentina certo ci sono dei negazionisti certo c'è Milei che cavalca quest'onda negazionista però perché ha tanto successo? perché comunque in Argentina il lavoro è stato fatto quindi comunque c'è tutta una parte che ignora quanto accaduto che non ne vuole più parlare che non ne può più del fatto che comunque i diritti umani in Argentina si sia fatta una politica pubblica mentre invece al contrario se in Cile dici non ci sono stati i desaparecidos beh cioè non è tanto uno scandalo diciamo comunque anche la maggior parte dei candidati della destra cilena pensa così e non è che in Cile si sia creato un dibattito pubblico invece nell'Argentina comunque Milei e la sua vice sostengono delle cose del genere e la società si rivolta quindi comunque è un caso molto importante a cui fare riferimento quello all'argentino Elena penso di parlare a nome di tutti dicendoti che è stato un incontro estremamente prezioso ti ringraziamo davvero e sei stata fantastica grazie